ANSA, Torino, 24-8, un ergastolano in regime di semilibertà non ha fatto rientro in carcere, a Torino, dopo una licenza premio. Lo comunica il sindacato autonomo di polizia penitenziaria OSAP. L'uomo è un italiano di 52 anni, Giuseppe Taormina, che sta scontando una condanna per omicidio. Sono stupito, dichiara il suo legale, l'avvocato Vittorio Pesavento, perché è sempre stato corretto e affidabile. Tanto è vero, che aveva ottime valutazioni. Taormina era stato arrestato a Cannes nel 1997. Nel 2006 l'estradizione in Italia. Lo scorso maggio ha ottenuto la semilibertà. lavorava in una associazione di volontariato. Il permesso, secondo quanto si apprende, era da passare in un eolus, ispirata a principi evangelici, che si occupa del reinserimento dei detenuti. È la riprova del fallimento del sistema penitenziario. Commenta lo Zappi.